Ciao, sono Roberta, provengo da un'esperienza dell'Accademia di Belle Arti di Macerata in cui ho studiato fashion design e proprio in Accademia un anno e mezzo fa ho intrapreso un'avventura sartoriale e artigianale con una mia collega di corso e autoproduciamo abiti per bambini utilizzando esclusivamente tessuti biologici che per ora prendiamo dall'estero e speriamo di trovare altrettante agevolazioni economiche e strutturali anche in Italia.